Enorme successo per la Corrisernia 2023, la manifestazione appunto podistica organizzata dalla nuova Atletica Isernia nella cittadina Pentra, circa 2000 le iscrizioni registrate. Numeri da capogiro per la diciannovesima edizione della Corrisernia, la Kermess podistica organizzata dalla NAI nella cittadina Pentra. Pubblico e sportivi festanti che in questo weekend hanno colorato le strade di Isernia ma soprattutto bambini e ragazzi che hanno aderito in grandissimo numero alla Corri, la scuola, la competizione riservata agli istituti scolastici. Grande la soddisfazione nelle parole di Agostino Caputo, presidente della nuova Atletica Isernia. Numeri tantissimi ma veramente tanti, quest'anno col fuori la scuola abbiamo superato ogni precedente, c'era nell'aria perché dopo gli anni passati bui del covid, l'anno scorso c'è stata già la ripresa l'anno scorso, però quest'anno proprio c'è stato il boom di persone che hanno voluto a tutti i costi partecipare, quindi la gara più numerosa con la scuola ci ha dato veramente grosse soddisfazioni e ringraziamo i dirigenti scolastici di tutte le scuole e gli insegnanti, i professori che hanno collaborato e i genitori che hanno portato i bimbi. Per quanto riguarda la vera atletica, quest'anno anche abbiamo avuto la chicca del miglio, misurato, omologato e certificato dalla FIDA, quindi la vincitrice Giulia Aprile sarà la prima primatista italiana del miglio su strada. Cerchiamo di aprire un percorso che sicuramente altre città più importanti di Sernia lo faranno sicuramente, però oggi noi siamo contenti di essere i primi in Italia a aver avuto questi tempi. Grazie a Luciano Di Pardo riusciamo a portare qua atleti veramente di fama internazionale, quest'anno Federico Riva, lo stesso Boutique ha vinto, l'altro ragazzo è arrivato secondo, ragazzi hanno partecipato alle Olimpiadi, alle campioni italiane, sono di gruppi sportivi importanti, quindi veramente è un sacrificio che facciamo per l'organizzazione importante, però ci dà soddisfazione. Per la competitiva di 9 chilometri che ha aperto la manifestazione, il podio femminile è stato tutto molisano con l'atleta di casa Yolanda Ferriti della Freerunner che ha preceduto nell'ordine Gabriella Di Berardo dell'Atletica Esernia e Anna Bornaschella dell'Atletica Venafro per il podio maschile, il giovane Andrea Staffieri in forza all'Atletica Venafro si è imposto su Piero Mignoni e Raffaele Mattiello. Nell'americana gara d'eliminazione a spuntarla in uno sprint mozzafiato l'atleta delle fiamme gialle beniamino del pubblico molisano Yassin Bui che ha avuto la meglio su Pietro Arese e Ahmed Houda. Presenti all'appuntamento anche i giudici della Federazione Atletica Nazionale chiamati a rendere ufficiali i risultati del miglio delle donne vinto da Giulia Aprile.